ciao ciao da noi nuovo video questa volta con lui il signor gnomo ciao ciao a tutti avete fatto l'iscrizione al canale no chi non l'ha fatta la può fare mettendo semplicemente cliccando su iscriviti e magari mettete anche un bel like così il tuo pollice non è molto grande così oggi un altro video vlogmas quindi dedicato al natale e voglio dirvi che questa volta non staremo in casa non avrà niente a che fare con casa mia un pochettino mi hai scompigliato gnomo ma voglio andare nei negozi voglio andare in un grande centro commerciale che non è molto lontano da casa mia e voglio farvi vedere tutto quello che c'è perché una delle cose che io amo particolarmente di questo periodo natalizio sono anche tutti gli addobbi che i negozi mettono tutti quindi tutte quelle cose cosettine io le adoro e quindi adesso siete pronti prendo la camera e vi porto come così potremo vedere insieme tutto quello che hanno messo a disposizione vediamo vediamo e spero questa volta di non cadere in tentazione di resistere devo resistere devo soltanto vedere apprezzare respirare quest'aria natalizia basta condividerlo con voi ciao ed eccoci qua siamo finalmente dentro al centro col marciano Grazie a tutti. 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 Ciao, ci vediamo. Grazie a tutti.